Noi attori siamo spiriti e ci sciogliamo nell'aria lieve, nell'aria leggera. Tutto ciò che la fantasia ora contiene si dissolve. Noi siamo fatti della stessa materia dei sogni e la nostra vita è breve come l'attimo di un sonno. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Eccomi qua, giocando, raccontando, inventando. Io mi accorgo che ogni volta che sono su un palcoscenico e faccio uno spettacolo, la mia casa, la mia sostanza sono il teatro. Il mio tempo è il tempo del teatro, un fiume che mi travolge. E quel fiume sono io, una tigre che mi strazia. E quella tigre sono io, un fuoco che mi consuma. E quel fuoco sono io. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info